finalmente anche io riesco a provare la demo di Gran Turismo Sport uscirà poco dopo Project Cars 2 quindi finalmente un po' di concorrenza seria anche su PS4 andiamo a vedere com'è ho sempre seguito la saga di la serie di Gran Turismo li ho avuti praticamente tutti, li ho giocati tantissimo l'unico che non ho giocato è Gran Turismo 6 perché sono passato a Project Cars, lo ammetto mi ispiravate più quindi l'ultimo capitolo non l'ho giocato ho giocato Project Cars e adesso sono in dubbio tra Project Cars 2 e Gran Turismo Sport quindi fortunatamente abbiamo la possibilità di provarlo la grafica come sempre sembra pazzesca ok abbiamo l'intro la tua prima auto iniziamo con una macchina da rally ok eccoci qui quindi abbiamo modalità arcade modalità campagna che saranno delle missioni, delle prove credo la gara ufficiale online anche mi fa fare case produttrici puoi chissare letture lobby ok proviamo prima l'arcade andiamo in ordine allora io lo proverò con un T300 che ha qualche problemino però più o meno funziona editor di livre addirittura se conosco bene però Gran Turismo penso non farà cambiare più di tanto facciamo un bel nero metallica metallica ok ok solamente mi accontento del come si tratta di dietro mi accontento del nero dai ma li fa anche salvare oddio a me queste cose non è che fanno un pazzire però è sempre meglio averle che non spero se abbiamo messo la stessa cura anche sulla fisica e sul realismo della guida ok dai esci ok quindi proviamo l'arcade era singola vediamo com'è ah è tutto sterrato creiamo uno speedway oddio lo vale non è che mi fa impazzire di notte ah ok quindi nell'arcade cazzo c'è la 4C buono buono quindi nell'archetta me le fa provare un po' tutte perfetto eh beh l'alfa è sempre l'alfa rosso no sbagliato mettiamo un cambio manuale assolutamente vediamo un livello difficile ok non mi ha fatto configurare il volante spero che vada bene pronti ah mi piace questo suono parto ultimo come al solito in griglia ci sono tante tante macchine però domani vanno a 3-2 no no ABS ok ok sì perfetto ho ben avanzato le marce vanno bene queste cambi visuale più che altro mi interessa perché ok il quadrato ok 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 vai arriviamo così alla cieca cazzo cazzo ah fanculo tanti giri sono 15 giri cazzo sono tanti però eh vado dalle palle no 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 ok ok eh camminano però no 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 vai no 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 ti prendo Dice sorpassare perché Non sa tenere la traiettoria A muro, cazzo Buona E due Ho visto come erano impostati i danni Io lo prendo sempre Sto riprenderci un po' Ma cavolo Sto facendo schifo Ora siamo andati a una pista seria però Ah, già noi ci li ho fatto Cazzo fa dura Dai, dai, dai Molto meglio così Esattamente meglio Cazzo ne li mangio Via, via, via E olha le bambe A viaggiare troppo tardi Via, via, via Almeno il podio No No Stavo che era l'ultimo giro Peccato aver capito male la traiettoria All'inizio Non ti ho preso la mano Prendevo troppo stretta Dai, dai, dai Ah, parca mia Fatto schifo Meno molto carino Oddio, solo un secondo set che ho fatto per chi giri non capendoci un cazzo Ok Riprovare un'altra pista E poi andiamo online Ok Ok Grazie a tutti. Sicuramente meglio di Gran Turismo 5 che l'ultimo che ho provato. Se è meglio anche di Project Cards è un po' difficile da dire. Ok, inizia così senza impostare niente. Non conosco la vista però c'è questo piccolo problema. Questa è famosa in ciascura, no? Non scivola questa maledetta. Questa forza era meglio in terza. No, 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 no. Ok, però è corta quindi si può imparare abbastanza velocemente. Sono molto bello, non fa... Pianta proprio il rombo ignorante in cuffia. Non si è la terza in effetti qui, però l'ingresso... Adesso... ...avamo andare in quarta. No, 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 no. Malissimo, malissimo. Malissimo, malissimo. No, 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 no. Male 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 male. Possiamo fare meglio dai. No, mi ha dato pure questo giro la penalità. Ok, poi c'è la sinistra. E' sempre sull'erba, qua vado, cazzo. E' questa la sbaglio sempre. Anche, dai, qua non ho tagliato tantissimo, non mi dovrebbe dare la penalità. Andiamo a fare un buon giro, dai. Sì, come si indurisce qua. Eh, qua mi inculo sempre da solo. Non esageriamo? Questa è la più difficile, forse. Dai, dai, dai. Ho alzato un po' troppo il piede. Non l'hai. Meglio di prima, sicuramente. Ho fatto 55, 56. Dai, proviamo ad andare sotto 56. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. N 나오� kammero. V sunka. Lavorare. V Superior. V Grazie a tutti. Mi accontento con il 55.9. Vediamo se intanto si può avviare anche la gara. Ah, e ti poteva fare qualcosina anche meglio. No, non lo voglio a replay. Ma questa che è qualifica o la gara? No, è sempre... scusate, è sempre... Qualifica credo. Vediamo se riusciamo a fare la gara. Partecipa alla gara. Ah, devo rifare. No, non lo voglio a fare la gara. No, non lo voglio a fare la gara. Che palle. Pensavo che il tempo di qualifica valesse quello che ho fatto poco fa. Invece devo rifarlo. Ok. Ah, no, ma lo tiene. Solo devo aspettare che... Devo aspettare dieci minuti. Che palle. No, proviamo. Per abbassare un po' Traction Control. Per abbassare un po' 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ti dà penalità. Ottimo. Vado a schiacciare un po' di pulsanti a caso. Grazie a tutti. 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 con il pad del volante è un po difficile vediamo se posso farlo si c'ha insomma effetti foto molto molto bella ma a noi ce ne frega poco noi vogliamo guidare vogliamo riproviamo a fare questa gara 22 20 mancano 9 minuti riproviamoci un'altra pista questa si mi sa che un'altra pista non è quella di prima che prima mi sa che era questa proviamo questa peccato ormai ero imparato questa è una delle prime che utilizzai su gran turismo quindi dai rossa guarda adesso sarà difficile imparare la pista vediamo se riusciamo a fare questa gara online che pareva di stesso i due minuti mi riesco a fare giusto 3 4 giri avendo la memoria di un canarino non la memorizzerò mai le impostazioni auto non c'è tempo non c'è tempo andiamo così come come viene vai so la visuale un po troppo vicina ha un sottosterzo da paura sta macchina e quindi una donna sonora sempre molto bella cazzo bene così ora sterza in frenata e sottosterza in accelerazione guarda che metà impazzita sta macchina credo pure che cambiate c'è la musica troppo alta cazzo scusate l'abbassa un po' la musica perchè se no non lo fa fare cazzo non me lo fa fare siete dei maledetti però finiamoci questo motore si sente un po' meno degli altri questa non è male questa quinta non ci la fa mai come primo giro ha fatto schifo al cazzo questa quinta non ce la fa mai ma com'è questa volta meno pazza questa non parerò durante la gara dai questa quinta maledetta questa non fa un po' più lunga si 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 in pieno quasi anche questo ho frenato troppo che la guardo se alla fine me lo compro questo cazzo di ct sport ah mi ho dato 7 secondi il secondo giro non male dai ancora che sta fare autofan pieno ma qui devo frenare parecchio che cazzo da un pochino E' troppo, ho provato. Qua la potevo fare un po' più forte, se ricordo bene, ma questa in pieno anche, e questa quasi in pieno, eh, mi sta piacendo però. Era tanto che non guidavo, ma sarà anche quello. No, fa un bel giro. Qua parte la gara. Speriamo. Provare Traction Control a due. Eh, madonna. No, mettiamo come stava, non rischiamo. Ok, dovrebbe star per partire la gara, vediamo se effettivamente stavolta riesco a farlo. Grazie. 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 Beh, va a fare precisamente meglio qui. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetto come pilota in questa immagine. Ci facciamo? Dai, fammi fare questa gara, su. E' bravo. Niente. Sta rivenendo un po' di voglia di un bel campionato online, però. E' stati i bastardi a pubblicare questa demo. Sai, mi butta fuori pure stavolta. Mi butta pure sede. Niente. Sta cavolo di gara online non sa da fare. Tutto bloccato. Stavolta aspetto però. Cazzo che ho schicciato. Stavolta aspetto. Allora, la grafica comunque, intanto aspettiamo, diciamo due stronzate. La grafica è molto buona, dei parcomacchine sembrano pochi, ma forse solo perché è una demo, poi immagino ce ne saranno di più. La realismo e guidabilità non è male, però non ho visto molte indicazioni sulle gomme e questo un po' mi preoccupa. Non c'è il consumo, 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 non c'è le temperature. Quindi Project Cards, forse da questo punto di vista, è ancora un po' avanti. La differenza grossa comunque, secondo me, la farà la possibilità di creare, di gestire i campionati. Se fanno un bel lavoro qui su GT Sport, se la può giocare bene con Project Cards 2. Quando dico Project Cards ovviamente mi riferisco al 2. Qui niente, non si sblocca, mi sa. Lo devo chiudere un'altra volta, che palla. Niente. Riavviamo di nuovo. Riavviamo di nuovo. Riavviamo di nuovo. e riavviamolo per l'ennesima volta non è un buon segno è una buona pubblicità il fatto che in più di un'ora non sono riuscito nemmeno a fare una gara online però speriamo si stemino nel frattempo probabilmente per gestire questa demo i server non erano nemmeno utilizzati tutti voglio sperare a parte più o meno gioco sono rotto il cazzo però vorrei direi che facciamo una bella garetta contro la IA perché prima mi ha fatto rosicare questa qui però perché mi ruota il culo facciamo sera pomeriggio prendiamo questa qua mi ammazzo però questa è troppo potente bene questo manuale vediamo se riusciamo a vendicarci contro la cpu e poi proviamo un'ultima volta a fare una garetta online pronti pronti qualifiche manco per il cazzo immagino volta mi sembra le piaceva fare Gran Turismo però le qualifiche prima della gara non so perché da un certo capitolo poi hanno tolto questa possibilità sono in vita cos'è quello di prima che non c'è l'audio va bene è nuvoloso mi sono perso tutti i punti di riferimento però a guidare questo mi è fico mi è fico quasi cazzo come parte cazzo come parte eh va di dando le palle c'è il meteo variabile penso penso di sì no no ma il buon giro di prova mi è fatto fare no è nato troppo passo passo all'esterno stronzo la scortella cazzo la cosa ce la faccio io e mi sa che la prenderemo un curo anche questa volta la faccio io la prenderemo la prenderò un curo una volta me la mani in ciavolo c'è più adesso faccio solo brutte figure cazzo cazzo ah 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 niente mi dispiace ragazzi hanno sfondato dobbiamo fare una rimontina faccio solo sper'è la perra non notice mi piace che ignorante ero c'è più però in realtà si faceva super alto ma niente o che almeno non ho preso il muro dai 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 vediamo qualche posizione eh ci ho provato eh che stronzo vabbè c'è il sesto qua che giro in più non c'è troppo venato bella dì ahhh facci più maledetta due volte che mi incula la musichetta ha fatto questa bella figura andiamo a che ora c'è la prossima carretta online se andiamo a fare una bella figura pure online meno abbastanza reattivo 22 30 no cazzo ce la faccio qua non conosco pista non conosco niente che prendo la prendiamo ferrari dai che fai sarà pure una bella gara perché gomme da corsa dure vediamo se riusciamo a fare sta cazzo non credo esista veramente però sarà una bella combo c'è che fai a prendere una macchina come la ferrari ok quindi senza provare la macchina senza provare la pista e senza fare la qualifica meglio di così ma sono sicuro che troverò qualcuno peggio di me speriamo solo oggi non è pieno di bimbi minchia che ti buttano fuori abbinami dai abbinami almeno questa volta and and faccio un altro sorso niente non c'è moto staranno scoppiando i server eh zitto no questo l'aveva fatto anche prima e poi non era successo niente e vaffanculo niente e niente allora chiudere qui l'esperienza questo primo approccio con GT Sport con questa bella schermata nera magari domani sera faccio qualche altro giro ciao ciao Grazie a tutti.